Hai mai sospettato che qualcuno possa essere connesso alla tua rete wifi senza il tuo permesso? Vuoi scoprire tutti i dispositivi collegati alla tua rete domestica in pochi semplici passaggi? In questo video ti mostrerò come utilizzare Nmap, uno strumento potente e gratuito per monitorare e proteggere la tua rete. Rimani con noi per imparare come avere il pieno controllo della tua rete domestica. Benvenuto su Scrivocodice, il canale YouTube dedicato a tutorial e consigli pratici per potenziare le tue competenze di programmazione e non solo. Che tu sia un appassionato di Python, Linux o interessato all'open source, qui troverai contenuti utili e stimolanti per accrescere le tue competenze. In questo tutorial esploreremo passo dopo passo come utilizzare Nmap per identificare tutti i dispositivi connessi alla tua rete. Cominciamo! In questo video ti mostro come identificare quindi l'indirizzo IP della sottorete, come eseguire una scansione completa della tua sottorete e come eseguire una scansione parziale, quindi su un intervallo di indirizzi IP prefissato. Alla fine vedremo come ottenere l'elenco dei nomi e degli indirizzi IP dei dispositivi della rete. Per poter ottenere l'indirizzo IP della sottorete andremo a vedere ad estrarre l'indirizzo IP del nostro dispositivo e da lì dedurremo l'indirizzo della sottorete. Il comando è il seguente. Dobbiamo eseguirlo ovviamente come utente sudo, eseguiremo IP address, andremo a escludere l'IPv6 e andremo a evidenziare l'indirizzo IP. Una volta inserita la password otterremo quindi sia l'indirizzo della loopback ma poi l'indirizzo del nostro PC. Da qua dedurremo anche l'indirizzo della sottorete quindi in questo caso io sto nel 192.168.40.65 Considerate che se state in rete domestica dentro router gli indirizzi cominceranno sempre per 192.168. Per scansionare tutti i dispositivi connessi alla tua rete utilizziamo il comando che mostro in questa slide sudo nmap-sp inserendo l'indirizzo IP fino alla terza cifra e poi ponendo l'ultima il punto 0 slash 24 questo qui deve essere la notazione da utilizzare per scansionare la rete andiamo a vedere un esempio copio il comando lo vado ad inserire facendo opportunamente attenzione qui ho il punto 43 192.168 perché di solito sulle sottorete è così metto 43.0 slash 24 avvio il comando nmap che mi restituisce il seguente risultato mi dà appunto che sono presenti un router che è sostanzialmente il mio router al punto 1 all'indirizzo punto 1 e poi ci sono io col mio pc nel 162.168.43.65 quindi mi ha restituito gli host collegati alla rete ovviamente se ci fossero stati più host collegati mi sarebbero apparsi nmap consente anche di scansionare parzialmente la sottorete andando a invocare lo stesso comando della scansione completa ma alla fine toglieremo il punto 0 e metteremo il range di indirizzi che vogliamo andare a controllare in questo caso dal 2 al 30 spostandoci io sono il indirizzo 43 il mio è il 65 mi sposto tra 60 e 70 e do invio a questo punto scomparirà il router perché era punto 1 ma verrà visualizzato solamente il mio pc perché appunto è 65 qualora ovviamente andassi a analizzare un range nel quale non sono presenti i dispositivi ovviamente mi darebbe mi darebbe nessun indirizzo IP presente infine possiamo andare a invocare il comando nmap con un altro tipo di opzione che ci mostrerà l'elenco dei dispositivi connessi alla rete in un'altra forma e modalità andiamo a vedere questo comando che appunto va sempre a richiamare il nostro indirizzo quindi meno S con l maiuscola non più P qui mettiamo al solito la nostra sottorete e in questo caso il comando ci dà un output di questo tipo quindi ci va a elencare tutti gli indirizzi IP i 256 indirizzi IP della nostra sottorete ovviamente dove trova un dispositivo connesso ce lo mostra ovviamente questa è una schermata che può diventare un po' antipatica perché appunto ci dà tante righe che non forniscono sostanzialmente un risultato io qui vi propongo una possibilità che possiamo mettere insieme al comando quindi possiamo mettere pipegrep backslash parentesi 1 questo cosa fa? andiamo a vedere vado a fare un pipegrep backslash parentesi 1 a questo punto vado a evidenziare con una grep questo ovviamente è un espediente vado a evidenziare il parentesi tonda 1 e in questo caso quindi sono sicuro che mi verranno restituiti solamente gli indirizzi IP e ovviamente i nomi dei dispositivi collegati alla mia sottorete spero che questo tutorial ti sia stato utile per scoprire chi è connesso alla tua rete domestica utilizzando Nmap ora sei pronto a monitorare e proteggere la tua rete con facilità se questo video ti è piaciuto e lo hai trovato utile metti un like e condividilo con altri sviluppatori che potrebbero beneficiarne non dimenticare di iscriverti al canale e attivare le notifiche per rimanere sempre aggiornato sui prossimi tutorial e suggerimenti il tuo supporto è essenziale per far crescere la nostra comunità e offrirti contenuti sempre freschi e interessanti grazie per essere stato con noi e ci vediamo nel prossimo video